Il coro Vicentino San Biagio ha fatto un play nella 35esima edizione del concorso nazionale polifonico che si è svolta all'interno della Basilica di San Francesco ad Arezzo. La formazione corale si è infatti aggiudicata il primo premio assoluto nella categoria Cori Misti, il secondo premio con primo non assegnato nella categoria Sambi Vocali, il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano rinascimentale e il premio speciale per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo. Siamo molti contenti soprattutto per questa edizione che è stata veramente di altissimo livello, abbiamo lavorato molto e siamo soddisfatti di quello che abbiamo ricevuto, soprattutto per questa giuria veramente competente e un concorso strutturato alla grande. Si è conclusa così con successo domenica la Due Giorni Corale a Retina. La qualità è eccellente e anche il numero dai sei cori che ho cominciato tre anni fa sono diventati 18, questo è merito di organizzazione, è merito del direttore artistico, è merito anche del pubblico a retino che ha risposto molto bene alle nostre iniziative. Pulifonico è rinato. Tutto è andato liscio con tantissime persone, tutti soddisfatti, quindi grande. Arezzo torna, è sempre stata, però forse si fa più luce di prima.